Ci sono moltissime immagini dei compagni di allora. Un compagno di nome Enrico a Pescara, un docufilm per ricordare Enrico Berlinguer, la figlia Maria. Un ricordo molto caloroso, quello degli abruzzesi, documentato da foto, video e tanti ricordi personali. Quest'anno saranno i 40 anni della morte di papà. Verrà inaugurata a Roma una mostra molto bella, sia politica che personale, di cose di papà. E poi so che in lavorazione un film che uscirà il prossimo anno, quindi sì, penso che la memoria di papà sia ancora piuttosto viva. E questa è una cosa che a noi come famiglia ci commuove sempre, perché vuol dire che c'è un lascito e un ricordo. Quindi per questo sono belle queste iniziative con queste abruzzese. La nostra storia va comunque coltivata e raccontata. Papà è venuto molto spesso a Pescara e una volta sono venuto anch'io con lui. Sì, era molto legato a questa regione. Tra l'altro sosteneva, secondo me, con qualche fondatezza che il carattere sardo e il carattere abruzzese hanno molti tratti in comune. La tenacia, il rigore, essere gente laboriosa. E poi soprattutto la grande produzione della pastorizia, i formaggi. Per cui c'è anche una disputa che mi pare che va avanti ancora su quale è il più buono, tra il pecorino sardo e quello abruzzese. Ovviamente io penso quello sardo, però comunque... Com'è nata questa iniziativa? È nata proprio con l'idea di usare la storia individuale e collettiva, attraverso un personaggio come Enrico Berlinguer, un grande leader politico, per avvicinare i giovani a questa storia e raccontare anche un po' dell'Abruzzo e del rapporto che Berlinguer ha avuto con l'Abruzzo per una decina di anni, essendo stato qui capolista alla Camera dei Deputati e dal 72 all'82. Nel DocuFilm abbiamo ricostruito anche l'Abruzzo di allora, il contesto nazionale nel quale avvenivano le manifestazioni e le campagne elettorali e poi con la raccolta di memorie e testimonianze personali di chi ha avuto contatti e in quelle occasioni in cui Berlinguer è stato in Abruzzo con il leader. Sono gli anni, come dire, cuore dell'industrializzazione abruzzese successiva che la porterà poi all'inizio degli anni Ottanta, diciamo così, uscire tra virgolette dal sud. L'inizio di una storia contemporanea è rimasto un giallo, è vero che il KGB e i servizi bulgari ce l'avevano con Berlinguer, c'è un libro di Giovanni Fasanella, Berlinguer deve morire, i documenti sono sufficienti a suffragare queste ipotesi? La questione dell'attentato, diciamo così, tra virgolette, è abbastanza riconosciuta, è abbastanza accreditata, ma non è tanto quello, è il segnale, anche questo discorso è il segnale che Berlinguer allora stava facendo veramente un cambiamento epocale e quindi al di là di guardare dietro lo specchio, di guardare il giallo, la cosa importante è che anche questo ci conferma che era un uomo che aveva capito una trasformazione in corso e che la stava accelerando.